E alla fine è arrivato anche il nostro turno di provare il nuovo Google Stadia. Di che cosa si tratta? Magari lo conoscete già, si tratta di una piattaforma di gaming in streaming realizzata ovviamente da Google, annunciata quest'anno la Game Developer Conference e in procinto di arrivare proprio, diciamo, a ore. Sarà disponibile infatti da domani. Ma prima vi voglio parlare un pochino meglio di che cosa si tratta. Ve l'ho già detto, è una piattaforma di gaming in streaming che ha come obiettivo quello di scollegare l'esperienza di gioco dell'utente dalla console o dal PC a seconda di qual è lo strumento che utilizzate di solito per giocare. Non ci sarà più infatti bisogno di acquistare uno di questi supporti, vi basterà sottoscrivere l'abbonamento utilizzando il vostro account Google e potrete accedere a tutta una serie di titoli che verranno calcolati, che gireranno effettivamente in cloud sui server di Google. E a questo proposito Google ha progettato dei server con una potenza di calcolo grafica più o meno che è il doppio di quella delle attuali console e quindi non c'è assolutamente nessun problema per quanto riguarda le risorse di questi server per far girare i giochi ma anche per streammare il contenuto. Il problema più grosso in realtà, ed è anche un po' la nota dolente degli altri servizi sviluppati e lanciati fino ad ora, sta nella connessione necessaria per effettuare questo streaming. Google dichiara che bastano più o meno tra i 5 e i 10 MB al secondo per avere uno streaming 720p, 60 frame con audio stereo, si passa poi a una forbice tra i 10 e i 30 MB per il 1080p, sempre 60 frame con audio 5.1 e HDR, dai 30 a 35 e su invece potrete accedere al massimo dell'esperienza di gioco, quindi con Stadia Pro, con il 4K, 60 frame al secondo, audio surround 5.1 e anche ovviamente l'HDR. Ora però vi faccio vedere un pochino meglio come si è comportato in questa nostra prima prova. Ovviamente quando ci accingiamo a provare una piattaforma di gaming e streaming, uno dei problemi più grossi ai quali possiamo venire incontro è quello del ritardo dell'input lag, quindi del ritardo tra l'input, ovvero la mia pressione del tasto, e l'azione corrispondente a schermo. Questo perché la piattaforma su cui stiamo giocando deve comunicare con i server in cloud e quindi se questa comunicazione non è perfetta, non è ottimizzata, si possono avere dei ritardi che in un gioco come ad esempio Mortal Kombat causerebbero un'esperienza assolutamente non appagante. Devo dire che giocando in questo momento con il Chromecast Ultra e Stadia, ovviamente in 4K, 60 frame, su una TV addirittura HDR, non si nota assolutamente nessun tipo di ritardo. Si riesce a giocare come se si avesse di fronte una console fisica e quindi come se fossimo collegati con il cavo. In realtà qui sta funzionando tutto via wireless, sia il controller collegato via wireless, che ovviamente la connessione che arriva alla nostra Chromecast, con un consumo che nel caso di Mortal Kombat arriva nei momenti cruciali a un massimo di circa 50 MB al secondo, ma normalmente quando nelle azioni normali, diciamo così, siamo sui 30-35, massimo 40 MB al secondo. Quindi un consumo di dati e una ampiezza di banda, la quale può avere accesso, diciamo, la grande maggioranza delle persone ormai, specialmente in città come Milano dove ci troviamo oggi. Come state vedendo, io ora sto giocando sulla TV, ma un'altra delle cose fantastiche che ho provato oggi rispetto proprio a Stadia è la continuità, ovvero il fatto di poter passare da una piattaforma all'altra davvero in un istante. Ora metto un secondo in pausa sul televisore, ma solo per praticità, in realtà potrei farlo direttamente anche mentre sto giocando, e passo allo smartphone, questo è un Pixel 3a, mi basta schiacciare Play e riparto esattamente dal punto in cui, diciamo, mi ero interrotto sulla TV. Come potete vedere, ricomincia lo scontro esattamente da dove si era interrotto dall'altro lato e posso continuare a giocare. Stessa cosa con il notebook. Alla mia spalla c'è un Pixelbook, io ora, ancora una volta, metto in pausa sempre solo per comodità, per non farmi picchiare mentre sto effettuando questa operazione. Prendo il controller collegato al Pixelbook e posso ricominciare a giocare esattamente da dove si era interrotta l'azione. Per praticità, oggi noi abbiamo tre controller collegati alle tre differenti sorgenti, in realtà poi potete usare anche soltanto un controller, ovviamente ci vorrà un po' più di tempo per passare da una piattaforma all'altra, perché dovrete scollegare dal Chromecast o dal cellulare, passare al Pixelbook e così via. E vi parlo ora di supporti sui quali si può giocare a Stadia. Possiamo ovviamente utilizzare il nostro smartphone, deve essere uno smartphone Android. All'inizio funzionerà soltanto sui Pixel, dal Pixel 2 fino ai nuovi 4 e 4XL. Possiamo invece utilizzare il nostro notebook o il nostro PC, a patto che si utilizzi il browser Chrome, oppure sfruttare la Chromecast Ultra per poter giocare sulla televisione. Google offre anche un bundle di partenza, uno starter pack potremmo definirlo, si chiama Stadia Premiere. All'interno di questo bundle abbiamo anche il controller Stadia, un controller pensato appositamente per giocare a Stadia, che si connette direttamente via wireless ai server di Google e quindi teoricamente offre un'esperienza di gioco migliore. Ma in realtà l'abbiamo provato anche con altri controller e diciamo che comunque l'esperienza è ottimale, anche usando controller alternativi. Il bundle, oltre al controller, include una Chromecast Ultra, alcuni giochi e tre mesi di sottoscrizione a Stadia Pro. A lancio saranno 12 i titoli disponibili per poter giocare sin da subito con il nostro account Google e Stadia, tra questi titoli anche molto importanti come la saga di Destiny, Doom, Mortal Kombat, Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 e anche un'esclusiva, Guilt, che è stata sviluppata appositamente per Stadia e resterà un titolo esclusivo per la piattaforma Google. Sarà disponibile a partire dal 19 di novembre e potrete sottoscrivere l'abbonamento Stadia Pro al costo di 9,90€ al mese, che include il supporto al 4K 60 frame HDR con audio surround 5.1 e la possibilità di giocare ad alcuni dei titoli gratuitamente. Gli altri titoli andranno comunque acquistati per poter essere giocati. C'è poi anche una sottoscrizione gratuita, si chiama Stadia Base, arriverà però soltanto nel 2020 e permetterà di giocare solo in Full HD a 60 frame con audio stereo. In questo caso non ci sono giochi inclusi in bundle, bisognerà acquistarli tutti, ma potremo comunque continuare a utilizzare eventuali giochi acquistati con la versione Pro, con l'unica differenza che gireranno in Full HD e non più in 4K. Per il momento è tutto, io spero di poterci giocare presto anche a casa e non soltanto qui da Google. Vi saluto, vi invito a lasciare un bel like, ovviamente iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche. Ciao!